Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono super emozionata perché oggi è 5 ed è il giorno in cui arrivano le analisi. Quindi adesso andiamo a vedere se sono già uscite. Prendo il foglio per capire dove devo andare, in che sito. Tendiamo il computer e andiamo a vedere. Siamo pronti. Ok. Vado. Non è pronto. Devo aspettare le mail. Ma come non è pronto? Oggi è 5, che sono le 10 del mattino? Che tardi secondo me. Orari 12, 13, 16, 18. Aspettiamo. Aspettiamo. Ok, allora, vediamo un po'. Sono... Alexa, che ore sono? È l'1 e 28 del pomeriggio. L'1 e 28. Non pronto. Proviamo domani direttamente. Invece di aspettare così con ansia, avrebbero starci teoricamente. Quindi aspettiamo fino a domani. Allora, dall'ultima volta sono passati tipo tre giorni, era cinque, oggi è tipo otto. È arrivata appena adesso le mail, in ritardo, però è arrivata. Sono pronti i risultati e posso andare sul sito. Oddio. Ho paura il sito. Dov'è il foglio? Dov'è il che? Sta qui, no. Perfetto. Ha mangiato la mela, io. Ha mangiato la mela, Grace. Non mi ricordo nemmeno il nome del sito. Dovrei aver già salvato i codici, così non devo... Quindi devo soltanto cliccare. Ora siamo pronti. Vediamo se sono celiaco o no. Tre. Ma che significa? Perché diciamo di YouTube? È perché sono tutti i numeri, ma non capisco niente. Scusa, bello, Grace, hai fatto questo. Cioè, io non capisco sta cosa. Cioè, che mi danno degli esami. Il dottore capisce gli esami. Non posso dire loro direttamente, positivo, negativo, no, sì. Non capisco niente, davvero. Ok, allora, vabbè, l'avrete capito. Abbiamo parlato con un dottore e non sono celiaca. Benissimo. Sono super felice di questo. E dobbiamo vedere, invece, il fatto del latte. È l'unica cosa adesso che rimane. Posso mangiare pizza a pasta quanto voglio. E niente. Dovrei fare anche gli esami a Grace. Non è più là. E vabbè, stiate felici con me. Spero che questo video un po' così vi sia piaciuto. Era giusto per la fine un video così, proprio così a caso. Cioè, un video così. Vabbè, niente. Ci vediamo in un prossimo video. Ah, ricordatevi che giù in descrizione, in descrizione o giù nel primo commento, c'è il mio shop online. Ci tengo tantissimo. Ciao a tutti!